Grazie a tutti. Giovanni Malagò, già vicepresidente e vicario nazionale dell'Associazione, Francesca si è messa immediatamente al lavoro. Mi fa molto piacere per la sezione di Pistoia che porta a Milano, quindi a livello nazionale, un proprio socio e questo credo dia la misura di quanto la sezione ha ben lavorato in questi anni. Siamo una sezione di provincia che si è fatta notare, si è fatta vedere, ovviamente in positivo, tanto da ottenere questo bel risultato. Quali saranno i primi passi? Siamo un'associazione attiva che opera nel mondo dello sport, quindi fa moltissimi campionati. Capite bene che in questo momento tutti i campionati sono fermi, quindi innanzitutto ripartire con l'attività sportiva, ripartire con le nostre attività sociali sul territorio. Ne facciamo molti eventi, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche. Fra i primi obiettivi c'è quello di modificare il nome. I veterani dello sport hanno un qualcosa di vecchio che non si addisce all'associazione e ai suoi propositi. Il nome ovviamente non ci aiuta, questo nome Unione Nazionale Veterani dello Sport, che è pieno di significato, ma è anche portatore di una visibilità collettiva che dà un po' l'idea di vecchio. Ecco, tutto quello che noi non siamo è un gruppo di vecchietti che giocano alle bocce, cosa che talvolta qualcuno pensa. L'associazione è molto viva, l'età media si sta anche molto abbassando, fra l'altro ci possiamo iscrivere all'associazione da 18 anni in su, quindi poi tanto veterani non siamo, abbiamo tanti ragazzini fra di noi. Ma c'è di più, visto che nel nuovo assetto dell'intera dirigenza nazionale è entrato anche un altro pistoiese. Si tratta di Franco Benesperi, presidente della Fondazione Banca Alta Toscana, eletto membro del Collegio dei Revisori dei Conti. A proposito di veterani dello sport, a sostituire lo scomparso Gianfranco Zinanni nel ruolo di responsabile della sezione provinciale, è stato nominato all'unanimità Marco Biagini. Siamo pronti, siamo pronti, fra le altre cose abbiamo assegnato anche campionati italiani di ciclismo per i veterani dello sport. Quindi un impegno sul quale abbiamo già iniziato a lavorare, però aspettiamo che ci lasciano via libera per riunire tutti i nostri soci che ci cercano, ci chiamano, però purtroppo in questo momento abbiamo anche noi le mani legate.